Riesplode la fight tra clan nel napoletano. Da Portici a Melito a Quarto si torna a sparare in strada. L'ultimo ride, quello che ha portato alla morte di Rocco Tomaselli, esponente del clan Mazzarella. Il pistolero gli ha esploso contro sei proiettili, mirando in basso e ferendolo alle gambe e al gluteo. Ma uno dei colpi ha reciso l'arteria femorale, provocando la morte del 32enne. Un agguato, quello dell'altro ieri sera nel quartiere Mercato, senza testimoni. L'episodio potrebbe essere dovuto a frizioni interne, in seguito alla riorganizzazione del cartello criminale successiva agli ultimi arresti, ma non si esclude che potrebbe inquadrarsi nei contrasti mai sopiti con i gruppi malavitosi dell'alleanza di Secondigliano. Mentre a Portici si continua a indagare sul ferimento di Giuseppina, sorella di un pregiudicato vicino al canvollaro, colpito alla gamba da un colpo di pistola nell'area del mercato. Ieri sera, inoltre, un 34enne originario del Burkina Faso è stato portato in ospedale a Giuliano per una ferita alla coscia destra. Colpito, verosimilmente, con un'arma da taglio, lo straniero non ha fornito alcuna indicazione ai carabinieri che indagano sull'episodio. Il fatto, secondo gli investigatori, sarebbe verosimilmente accaduto nel comune di Melito, ma sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della tenenza per chiarire gli aspetti della vicenda. La vittima non è in pericolo di vita.